che da secoli le creature credute fantastiche e magiche il piccolo popolo di esseri minuscoli legati alla natura che da secoli danno vita a fiabbe e racconti gli ignomi, gli elfi, i folletti, le fate che cosa sono? commento sono esseri elementali nuclei di energia astrale che alcuni sensitivi vedono e traducono in figure comprensibili per la loro evoluzione